Vai che Messi è lì, vai! Vai! Messi! Bonjour, madame et messieurs, oui, sommes de la France pour la partie Paris Saint-Germain versus Nizza. Per ogni gol di Messi vinciamo 50 euro. Spero di vincerli tutti. Et voilà, ecco qua il monte premi e si inizia su FIFA 22. Paris Saint-Germain contro Nizza, Coppa Europea, ottavi di finale. Questa volta ci sarà una novità perché io e Cri giocheremo nella stessa squadra nel Paris Saint-Germain. Rimanete qui perché saluteremo anche qualcuno di voi e faremo il nuovo quiz. Eri da me. Parco dei principi che ci accoglie con tutta la sua magia per questo match. Amici di A-Sports, un saluto, buon divertimento da parte mia, di Pierluigi Pardo e ovviamente di Lely Adani. Di fronte Paris Saint-Germain e Nizza. Bagabem! Bagabem, bagabem! Tra poco c'è il calcio d'inizio. Stiracchiamoci un po', prepariamoci, dobbiamo prepararci. Dobbiamo prepararci. E rimanete qua perché nell'intervallo saluto e nuovo quiz. Perfetto, ecco la nostra squadra, valgono solo... La mia! No, siamo insieme, siamo tutti e due nel Paris Saint-Germain, Cri. Vi ricordo le regole, a pochi minuti, a pochi istanti dall'inizio, valgono solo i gol di Messi. Ogni gol di Messi vinciamo 50 euro. Eccoli qua, questo è il monte premi. Sei pronto, Cri, per diventare ricco? Sì! Ma adesso arriva il campione! Inizia il campione, io sono il blu! E se volete vedermi il campione che esce tutta la sua bravura... Ma Cri, gioca! Ma tu mi fai addosso! Mettete like! Like! Mettete like che ci porta fortuna, così facciamo gol. Prendiamo la vostra energia con il vostro like. Ma non passare indietro! Allora, un attimino, io sono quello... Il rosso! Io sono quello col quadratino rosso, siamo insieme e dobbiamo fare gol con Messi per guadagnare 50 euro. Dai, passa! Ok, Messi è questo! Allora io devo andare direttamente in porta, devo andare direttamente in porta, devi andare direttamente in porta, vedi! E rigore! Sì! Chi lo batte? Lo batte tu con Messi, con Messi! Sì, lo batte io! Allora, questo rigore vale 50 euro, non Neymar, eh! Ah, un attimo! Metti Messi! Rigore da 50 euro... Dove tiro? E tira... A destra! Sì, fai tu, Cri! Però, allora, lui si butterà a sinistra, io faccio il trucchetto, faccio... Veloce, che poi parte da solo e sbaglia! Vai, Cri, cosa fai? Ah, gol! Mamma mia, hai rischiato, hai rischiato! Primi 50 euro guadagnati... Ma che fa? Fai il gatto! Ah, no, perché si chiama Lionel Messi, quindi fa il leone! Ah, è vero! Fa il leone! E ci viene riproposto il penalty con questo replay, ha guardato il portiere negli occhi fino all'ultimo, Glaciale, ha visto che stava andando in una direzione, siamo nel regno Glaciale! Ok, siamo al centrocampo, siamo stati fortunati, ma grazie al vostro like, se non l'avete ancora messo like, mettetelo adesso, così segniamo un altro gol! Ci sono! Cri, allora, collaboriamo, collaboriamo, visto che siamo nella stessa squadra, allora, la palla ce l'ho io con Ramos, e dove... No, 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 perché se ci fanno gol, lo sai che perdiamo i 50 euro? Eh, questa non me l'hai detto! No! Nuova regola, ogni gol che ci fanno... Ma non l'hai detto dietro le quinte! Perdiamo i 50 euro! No! Oh! Donna Roma, da quando Donna Roma è nel París? Ma come? Donna Roma nel Nizza? No, nel París! Ah, no, è nel París, è vero, quello è il nostro portiere, sì! Donna Roma è nel París Germain! Ma non era del Milan! Ma sì, ma tu sei rimasto indietro, Crivi, è stato trasferito quest'estate! Eh? Che ho detto? Sei rimasto un po' indietro, ecco le notizie del calciomercato! Dai, vai! Mbappé! Mbappé, velocissimo! Allora! Passa la Messi! Oh, non l'ho visto, stavo guardando un giocatore che andava avanti, non ho visto... Ah, ho un piano, ho un piano! Allora, dobbiamo prendere la palla... Ma che piano? Ah! Ciao! No! Le nostre 50 euro! Oh! Allora, ho un piano per vincere subito! Abbiamo perso 50 euro! Allora, ho un piano! Allora, quando prendiamo la palla dobbiamo passarla a Bappé, se siamo in centrocampo o in difesa, perché lui è il più veloce della squadra, va subito in contropiede, Messi va avanti, correndo, 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 lui si piazza, io te la crosso o te la passo, dipende da dove sei, e così è un gol assicurato! Ok, allora, Bappé è qua! Oh! Allora! Sono di nuovo qua con Messi, che viene in seguito! Torna indietro! Torna indietro! Passo indietro! Passo indietro! Mi sposto orizzontalmente! Attenzione! Allora, Gana! Ok! Bappé! No! Dai! Fregaliamogli la palla! Dai! Passala qua! No! Bam! Ok! Chi è quello? Niente, non l'ha presa! Vai! Oh, che fallo! No! No! Chi hanno espulso? Achimi! Ma Achimi in che squadra è? Parise! Ma non era nel... nell'Inter! Ma non lo so! Ma andate anche tu se indietro, allora! Ma chi era nell'Inter? Che ci fa a fare il St. Germain? E dopo chiedo a Google! Boh, allora! Vinaldium! Passa! Passa! Quello in alto! Sono io! Sono io! Sono io! T'ho detto in pieno! Ma aspetta! Ma ci hanno messi! Devo andare a fare gol! Ma non so perché... Guarda che... E passo! Dai, passa a me! Non puoi fare gol! Valduno sono... 50 euro solo che i gol di Messi! Ma se tu vai... Ma se tu vai a destra! Vai a destra! Ma poi tu entri! Entri in campo! Entri da sinistra! Non puoi fare gol! Bisogna entrare dal centrale! No! Ma come? Ma come dobbiamo restituire 50 euro? Non li abbiamo 50 euro! E andiamo a meno 50! E poi a che li restituiamo? Aspetta! Richiedo dalla banca! Faccio un prestito dalla banca! E faccio così! Stiamo perdendo per 2 a 1! Stiamo facendo troppe chiacchiere! Vabbè! Non rispetta il piano! Ok! Passa a me! Passa a me! Ma no! Ok! Allora abbiamo Vinaldium! Adesso! Non passare a Messi! No? Non ancora! Ma perché? Ma perché deve andare in attacco! Se non partiamo subito! Già è stancho e il tiro non è potente! Dai allora! E mandalo! Ma no! E manda Messi in avanti! E ci prova! Però tu non devi passarla a lui! Ah tocca a me! Ok! Passa di qua! Chi è questo? È Messi? Sì! No sei tu! Vinaldium! Ah! Quello lì è Messi! Ok! Te la fa alzo! Vai di testa! No! 50 euro sono volate! Riavvolgiamo! Eh? Riavvolgiamo! Facciamo tutto da cazzo! Eh no! Non si può! Eh si può! Non si può! Eh sì! Fai L2 più R2 cerchio! Ma davvero? Sì! C'è scritto lì in alto! Ah dopo mi fai provare! Rifacciamo dopo! Non lo sapevo questo trucchetto! Eh no! C'era scritto da quest'anno! Credo! Oh! Stanno arrivando! Difesa! Ora! Difesa! Ma no! Oh! Meno male che abbiamo Donna Roma in porta! Ma secondo me doveva restare al Milan! Era più forte al Milan! Vai! Sola qui! Ora! Ok Bappé ecco la nostra strategia! Quella che hai inventato tu prima! Io vado avanti qui sulla fascia! Individuiamo Messi! Dov'è Messi? È in mezzo! Sarà in mezzo! E ma dov'è? Ah! Sei tu! Ma come? Vai! Vai vai! No! Non è! No no! Torna indietro! Torna indietro! Passa quello! Passa quello! Ma sei tu quello! Ah! Ah! Il blu sei tu! Ok sei quello! Vai! No! No! Mery tu mi hai confuso! Eh ma anch'io! Con le occasioni che ti profondi che farò... No! Esci Donnarumma! Vai! Sei tu! Ok sono io adesso! Passo! No ma cosa fai? Non lo so! Ha passato a nulla! Allora! No! Era fuori gioco! Ok! Meno male che l'arbitro l'ha visto! Allora sei tu! Adesso sono io con Gana! Passa! Sei in difficoltà! Vai 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 vai! È Messi! È Messi! Sei tu! Sei tu! Tira! Eh no! Forse dovevo fare un tiro giù! Allora Messi dov'è? È il 30! No! E non lo vedo! Aspetta che... Ah eccolo! È laggiù! Sì aspetta! Scelgo Messi e vengo avanti con Messi! Aspetta! Questo qua è dove c'è? Perché no? Ecco! Dai porto avanti Messi! Passa la Messi! Oh ma no! È troppo tempo! Mi ho sprecato! Dovevi fare il raso terra! È troppo tempo! Mi ho sprecato! Mi ho passato da solo! Iha! Mamma mia! Il nostro Paris Saint Seymour! No! Filtrante micidiale! Nel Nizza! No! Donnarumma fa schifo! Che fai? Io cambio Donnarumma! Fa schifo! Metti Navas! È a 90! È meglio! Ok! Navas importa il posto di Donnarumma che si è fatto già prendere tre palloni! Ecco che ci viene riproposto il replay del golf! Dai ma non ci vuoi! Anche Mbappe è infortunato! Però! Quando il mio Kellini! Che facciamo? Quando il tuo Kellini era infortunato! È riuscito a giocare! Quindi non è detto! Lo so ma! Donnarumma che non è in forma! Quell'altro che è infortunato! Ma è veramente difficile! Vai con me sì! Lanciati sulla sinistra! Vai! Vai dritto! E tira! Oh Dio! Forse posso prenderlo ancora in niente! Ho provato a fare un tiro giro! Oh questo è fallaccio! Ok! No! Di nuovo lì! Mamma mia! Finisce qui il primo tempo e siamo sotto di 100 euro per consolarci! Ho perduto dalla banca! Salutiamo tre di voi! Piccoli ninja che nella volta scorsa avete indovinato il quiz in che nazione gioca durante i mondiali! Ibrahimovic! La risposta esatta era la Svezia! Hanno indovinato! Vai! Michele da Dubai! Gabriele Fonte! Lorenzo! De Zulian! De Zulian! Con la Z! De Zu! Zuzu! Così! E... Ciao! Nuovo quiz! Per essere salutati la prossima volta scrivete la risposta nei commenti a questa domanda! Chi è l'allenatore del Paris Saint Germain? Forza con le risposte! Lasciate prima like e poi scrivete la risposta esatta con un commento! E suggeriteci anche una domanda per il prossimo video! Inizia secondo tempo! Siamo sempre io e Cri nel Paris Saint Germain! Vede la palla! Verrotti! Ogni gol che facciamo vinciamo! Oh almeno questa la prende la palla! Ok sei tu? Pam 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 Ma non devi passarla subito a lui! Tutti in difesa! Tutti in difesa! grande 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 no ma questo è un fallo verratti lo faccio correre un po io porto ma che cavolo no gli hai dato il rigore a no chi è quello infortunato un altro capitano ma li abbiamo tutti infortunati ma io vado a passa 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 come faccio a mezzo sono in mezzo abbiamo fatto un'azione bellissima abbiamo tutta la squadra infortunata sono dei papamolli nostri fisicamente stanno messi male no grande no siamo sotto di 150 euro vai mappe infortunato verratti sta ancora bene messi un altro infortunato no ok vengo un po su te la passo vai te la passo ripassa dietro io potrei ripasso bene scappo di qua no ma tutte le parano però facciamo delle azioni spettacolari vai non possiamo dire di aver giocato male e che tra quello espulso e tutti questi infortunati purtroppo dai mettici grinta mettici grinta energia energia non ti demoralizzare energia che recuperiamo ma attraversa vedi che la fortuna è della nostra parte un bel filtrante per qualcuno laggiù non c'è nessuno ok no cos'è siamo sotto di 200 euro sì però tu ci devi mettere grinta dai fai un po di tifo ai tuoi e ce l'ho messa tutto però e ma continua non mollare non mollare non mollare ragazzi un like per dare energia a kree passa sono libero vai vai su vai ma non vai su scusami ok messi solo in contropiede tenta l'affondo sulla fascia non ce la fa più è senza fiato passa passa e va in mezzo vado in mezzo sono in fuorigioco vai e tiro lo stesso dai dov'è messi ok ok no è difficilissimo cercare di fare gol solo con messi e ragazzi bravo ok riprovo con gana ti passo passo lì passa me così te la puoi trovare il passo quando sei su bene allora berratti mamma mia ma come giocano duro dai dammi istruzioni kree su come fare dammi istruzioni mi muovo a caso se non mi dai istruzioni tu passa che faccio vai su vado su vai passa sono libero no aspetta dietro come dietro liberati vai che il grosso no troppo lungo dove il pallone però messi 4 5 giocatori infortunati non guarda guarda è rimasto gioco fermo e ragazzi quello non sapesse benissimo di trovarsi oltre l'ultimo di guarda male la spalla sta troppo male guarda come si tocca la spalla allora io lo sostituisco non è possibile quanti infortunati abbiamo bapè 1 2 ha capito perché difficile perché ha perché messi e sul dovevo essere mettere messi centrale invece l'abbiamo lasciato sulla destra ecco perché abbiamo sbagliato lì altro questo è il più forte berratti lo lasci infortunato sì berratti ma adesso lo lascio ancora così perché abbiamo ancora una sostituzione ma da mamma mia ancora 300 secondi alla fine adesso dovrebbe essere più facile però ce ne siamo accorti troppo tardi vediamo se è più facile con mamma mia ma cosa dici l'arbitro qui forza sbagliato l'ele che dici sembrava da rosso diretto anch'io ho avuto la stessa impressione pierre l'unica spiegazione hanno fatto una finta e che non abbia dedicato una chiara occasione da rete tentativo curato mamma mia ma secondo me era a livello professionista abbiamo giocato a un livello troppo alto ci abbiamo rimesso 200 euro abbiamo perso io questi me li prendo sono miei cosa ti prendi questi perché era professionista io non sapevo giocarlo fai vedere un po cos'è il peso machen money know no money 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 mule 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 questi burger sono si dice si sono guadagnati non penso proprio rifai fazbonom professionista io non lo so giocare